Ben trovati nell'angolo dello sport, quindi, quindi, cominciamo con il quindi, ma volevo concludere un pensiero che mi frullava già nella mente, è tutto a posto perché sono tutti abili e arruolabili, i giocatori del Pescara, come dire che il nostro tecnico Massimo Oddo ha dei problemi di abbondanza e benvengano questi problemi perché così lui ha la possibilità di fare delle scelte. Tutti i tecnici qui alla vigilia sono propensi a dire che il Pescara con il suo 4-3-2-1 giocherà con la finta punta avanzata Caprari, ma non è detto che Oddo non possa fare una sorpresa e presentare Omanai, ma soprattutto Baebek di cui lui dice un gran bene, infatti Oddo è convinto che Baebek potrebbe essere la sorpresa di questo campionato. L'arbitro sarà D'Amato di Barletta, vi ricordo che D'Amato ha arbitrato spesso il Pescara in B in Coppa Italia, l'ultima partita che ha arbitrato è stata il Pescara contro il Frosinone, in Coppa Italia vince il Pescara per 2-0 con due gol di Verre. Tutti non fanno altro che parlare di Biraghi in queste ore, Biraghi l'ex dell'Inter che in definitiva ha sempre giocato e tifato Inter, ma non significa niente, siamo in un mondo in cui si vuole a tutti i costi trovare la nota di colore per cercare di dire o di non dire o a volte anche di fare delle illazioni, di fare anche delle insinuazioni. Così capita per dei giocatori, così capita per degli arbitri, soprattutto contro gli arbitri e via di questo passo. Non vogliono assolutamente capire che i giocatori sono dei professionisti che guardano solo e soltanto il loro rendiconto, guardano solo e soltanto le loro prestazioni e vanno a capire subito quanto quella prestazione può rendere, quanto può essere quantificato nel successivo futuro. Vabbè, detto questo, la formazione dovrebbe essere presto delineata, insomma, bizzarra in porta. La linea di difesa, Zampano, Campagnaro, Jomberg e Biraghi. Jomberg giocherà tranquillo, sicuro. Poi la linea di centrocampo, Cristanti, Aquilani, che giocherà dal primo minuto e Memushai, però non è detto che Brugman non possa ritagliarsi il suo spazio. Poi la coppia Benaliver, che oramai è collaudatissima, è davanti. Personalmente metto Caprari, poi vedremo un po' se Oddo vorrà fare delle sorprese. L'Inter giocherà con il 4-3-3. Un Inter che dicono abbia dei problemi in difesa e quant'altro. Altri dicono che ha dei problemi in quanto a capacità di gioco, di manovra, ma ha talmente dei grossi campioni che può sicuramente essere pericoloso comunque. Come dovrebbe giocare l'Inter? Cioè con quali uomini? Allora, diciamo che Andanovic importa sicuro. Linea di difesa, partendo dalla destra, D'Ambrosio, credo Miranda, credo. Poi Murillo e Santon. Linea di centrocampo, Ioao Mario, Medel e Brega. Ioao Mario è fortissimo, ne sa qualcosa anche il nostro Aquilani, che ha dato delle referenze piuttosto tosse su questo ragazzo. Linea d'attacco fortissima perché dalla destra Candreva, che è il miglior esterno italiano, Icardi, che si ricorda sempre di fare i gol contro di noi e Perisic, che mi pare sia vivendo un momento atletico davvero molto importante. I tifosi pescarei sono, stanno già con il fuoco acceso, un entusiasmo alle stelle e ci auguriamo che sia domenica sera una serata di sport davvero ad altissimo livello, e come coreografia, e come gioco, e poi diciamo anche come risultato. Un affettuoso abbraccio da Gianni Lussoso come sempre, un ringraziamento particolare al regista della puntata, l'amico e collega Leo Di Blasio. Appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport. Grazie a tutti.